Roberto Martin della Brocresport, sicuramente possiamo dire che questo è un torneo che anno dopo anno continua a far crescere i propri numeri, molte società si iscrivono nuove e soprattutto si confermano quelle vecchie, quindi vuol dire che i valori sono quelli giusti, quelli del Mediolambe di Cup? I valori sicuramente sono quelli che si prospettavano all'inizio quando abbiamo ideato questa iniziativa insieme a Giuseppe Moschetta, fortunatamente nell'arco degli anni nonostante qualche difficoltà e qualche disguido che ci sta sempre siamo riusciti a inculcare e a trovare la collaborazione di tutte le società, il vanto è proprio questo, la crescita esponenziale anno dopo anno di tutti i nostri numeri sia a livello di squadra sia a livello di società aderenti, quindi vuol dire che anche il cosiddetto passaparola ci porta poi risultati sempre maggiori. L'appuntamento di Piazza del Popolo è stato istituito lo scorso anno con grande successo, verrà replicato anche quest'anno, una presentazione in grande stile dove tutte le società potranno sfilare, questo sicuramente è un valore aggiunto, qualcosa che dà visibilità, soprattutto fa entrare nel clima di questo torneo. Sì, noi siamo sempre attenti e prodighi a cercare iniziative e a cercare di dare iniziative e migliorare sempre tutte le piccole cose, la stilata di piazza è diventata adesso un appuntamento ma anche quest'oggi in questa splendica location del ristorante Giglio abbiamo cambiato anche il passo della presentazione, quindi noi siamo sempre tesi al miglioramento.